A fine agosto cominceremo i lavori per la costruzione del nuovo birrificio. Lo ha detto Padre Benedetto, priore dei monaci benedettini di Norcia. Lo realizzeremo ai piedi della nuova abbazia San Benedetto in Monte, dove adesso abbiamo installato il container per la vendita della nostra birra. La necessità di costruire un nuovo birrificio è dettato dal fatto che quello storico che si trova nel centro di Norcia è danneggiato. Intanto Padre Benedetto ha detto di essere soddisfatto per le vendite delle 5.000 bottiglie di birra del terremoto. Abbiamo già venduto la metà delle bottiglie e questo ci dà fiducia nel procedere alla costruzione del nuovo birrificio.